Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il video di oggi va a completare quello della settimana scorsa che era inerente a Brave Browser. Oggi invece andiamo a parlare di Basic Attention Token, quindi che cos'è questo token, come funziona, quali obiettivi si pone e soprattutto quali problemi cerca di risolvere. Ve lo anticipo, sono i problemi che rendono il mondo e il mercato dell'online advertising molto molto inefficiente e marcio. Oltre a questo andiamo a dare un'occhiata al wallet di Brave integrato in Brave e al discorso delle Brave Rewards e Brave Ads. Quindi seguitemi e andiamo a completare questo viaggio nel mondo di Basic Attention Token. Prima di iniziare vi ricordo che se volete sempre rimanere aggiornati con i miei contenuti, iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanellina per non perdervi nemmeno un video e rimanere sempre sul pezzo. E se apprezzate sempre il mio lavoro e i miei contenuti, gentilmente lasciatemi un like che io apprezzo molto e mi incentiva a continuare a produrre. Andiamo al nostro bat. Se avete già visto il mio video riguardo al browser Brave che ho fatto la settimana scorsa, conoscerete già tutta quella parte. Nel caso in cui non l'aveste ancora visto vi suggerisco di darci un'occhiata in quanto vi permetterà di comprendere come funziona appunto quel browser che è parte integrante dell'ecosistema e della piattaforma sulla quale ruota, diciamo, Basic Attention Token. Se ve lo volete vedere qua in alto a destra vi lascio la scheda, il link per andare direttamente lì e se volete invece scaricare Brave che non l'avete ancora fatto trovate il mio referral link qua sotto in descrizione e se utilizzate quel link per scaricarlo ed installarlo vi ringrazio perché mi farete una piccola donazione di 5 dollari in Basic Attention Token. Questo Basic Attention Token è un token IRC20 quindi che gira su blockchain Ethereum che mira a rivoluzionare il mondo dell'online advertising utilizzando naturalmente la blockchain e per l'appunto il brave browser come backbone quindi come spina dorsale come infrastruttura. Come fa? Lo scopriamo oggi. Cerchiamo di capire dove punta a migliorare il sistema attuale di online advertising che come vedremo è davvero marcio e poco funzionale e lo scopo è renderlo più inclusivo per tutti dal advertiser fino al publisher fino all'utente finale e più profittevole abbassando i costi ed aumentando i rendimenti. In questa presentazione cercherò di farvi capire in che modo. Partiamo dai problemi attuali dell'online advertising perché sono proprio quei limiti, quegli ostacoli che Basic Attention Token e la sua piattaforma cercheranno di superare, stanno cercando di superare anzi perché è una cosa estremamente attuale, non si parla del futuro. L'online advertising è un mercato molto fallace e in questa slide piena di testo scusatemi ma adesso li vediamo uno alla volta e cerchiamo di capirci meglio ho cercato di esporre tutti quelli che per me sono i problemi principali di questo settore. Il primo è la presenza di numerosissimi intermediari. La compravendita di annunci non coinvolge semplicemente l'advertiser ovvero colui che vuole andare a piazzare le sue pubblicità e la piattaforma ma c'è tutto un network di intermediari che ho cercato di mostrare in questa slide che ho trovato sul white paper di Basic Attention Token che mostra appunto il workflow che va dal marketer fino al pubblico, fino a the people ovvero coloro che visitano, navigano il web, visitano i siti e guardano le pubblicità. Non c'è come vi dicevo semplicemente l'advertiser e la piattaforma e il publisher quindi colui che pubblica i contenuti e che ospita le pubblicità ma abbiamo tutta una serie di agenzie, provider, exchanges, ad networks, tag management, data suppliers, ad servers, c'è di tutto e di più. Ognuno che ha un piccolo compito quindi appunto coloro che devono gestire il targeting, coloro che devono ottimizzare magari l'annuncio, il banner e farlo con i colori giusti e nei modi giusti. Le agenzie che gestiscono insieme di siti e l'advertiser va a sentire loro e loro li distribuiscono sui vari siti che gestiscono. Naturalmente i grossi provider come Google e Facebook che hanno le maggiori quantità di dati e i migliori targeting nei confronti degli utenti. Insomma c'è tutta una serie di intermediari che rende il processo dell'advertising estremamente costoso proprio perché tutti questi intermediari devono essere pagati a loro volta. In secondo luogo abbiamo un grossissimo problema che sicuramente tutti noi e tutti voi avrete sperimentato almeno una volta l'invasività degli annunci. Cosa significa? Significa che io magari voglio andarmi ad aprire un sito per leggere un articolo interessante che ho trovato e mi si apre un pop-up appena scorro in basso di due righe, un pop-up dopo dieci secondi, appena faccio un click mi si apre un'altra finestra con un'altra pubblicità, salta fuori un banner che mi copre mezzo articolo, salta fuori un video che devo stargli a stoppare, a mutare. Insomma è davvero un incubo navigare alcuni siti e sicuramente sapete che cosa voglio dire. Il malvertising addirittura è un problema ancora più grave, significa l'inoculare dei malware dentro alle pubblicità. Quindi se voi per sbaglio cliccate sul banner sbagliato per l'appunto vi si apre un vaso di Pandora. Sicuramente se avete visto film in streaming sapete cosa voglio dire, che se fate un click nel punto sbagliato boom via, guai bisogna spegnere e riaccendere perché salta fuori veramente il finimondo e c'è il rischio di infettare le proprie macchine con i malware. Inoltre il sistema, ecco no, tra l'altro prima di andare avanti questo che cosa causa? L'invasività degli annunci e il malvertising unito al punto 4 in realtà che è il caricamento delle pagine web rallentato che sono due cose strettamente correlate. Ovviamente quanto più annunci ci sono e quanto più sono pesanti tanto le pagine saranno più lente a caricarsi. Di conseguenza come vedete da questo grafico gli utenti vogliono scaricare e installare gli adblockers perché non hanno voglia di vedere le pubblicità giustamente. Io non voglio essere subissato da pop up banner e rischiare di prendere dei malware e quindi decido di escludere completamente le pubblicità. Guardate a che punto siamo arrivati. Questo cosa causa inoltre? Una scarsissima conversione. Ecco la conseguenza principale è quella perché il pubblico è disinteressato, anzi è interessato a escludere come vi dicevo le pubblicità. Quindi un advertiser per raggiungere le persone deve spendere di più, deve riuscire a emettere un maggior numero di ads e questo naturalmente ne inficia gravemente l'efficienza di rendimento. I tracker che abbiamo visto prima guardando gli intermediari sono ovunque, sono in qualsiasi sito perché Google li piazza, Facebook li piazza, tutti quanti i provider mettono dentro i loro cookies pubblicitari per riuscire ad avere tutte le loro analytics, per ottimizzare poi le pubblicità e per ottenere più traffico e questo comporta una grossa violazione della privacy del pubblico. Perché? Perché ogni volta che un utente va a creare un profilo da qualche parte dove mette i propri dati, magari nome, cognome, età, genere, insomma tutti quei vari dati che possiamo andare a mettere in giro, poi vengono utilizzati per legarli ai nostri comportamenti. Quindi che ne so, io, 29 anni, maschio, di Piacenza, Nord Italia, razza bianca e quant'altro, ho queste abitudini, quella è una forma di profilazione e di conseguenza è una violazione della privacy a tutti gli effetti. La logica del pagamento, dell'advertising è anche quella molto poco profittevole per tutti, come vedremo tra poco. La logica si basa su quello che si chiama CPM, CPA e CPC anche, che stanno per cost per mil, cost per action e cost per click. Cost per mil significa costo per mille impressioni. Cost per action, costo per azione, quindi magari il download di un'applicazione per capirci o l'apertura di una pagina o il login da qualche parte. E cost per click è semplicemente il costo per click, quanto viene pagato l'annuncio per ogni click che ci viene fatto sopra, perché a volte viene pagato in questo modo. Cosa succede così? Ci sono due problemi. Il primo è l'incentivo del clickbait, come ho scritto qua. Perché? Perché i content creators diventano delle macchine da click, a un certo punto. Cercano in qualsiasi modo di attirare click sulle loro pagine e di conseguenza sulle pubblicità che ospitano, che cercheranno di metterne il più possibile anche loro, poveracci, per avere un po' di introiti, per avere un po' di guadagno da queste pubblicità. Altrimenti, visto lo scarsissimo rendimento, anche i content creators sono estremamente penalizzati, perché non ci si guadagna più niente dalle pubblicità online. È un mercato in declino pazzesco. Oltre al discorso del clickbait, che quindi porta una crisi dei contenuti, perché la qualità diventa all'ultimo posto. Al primo posto c'è di mettere un titolo che attiri il traffico, quindi che faccia venire voglia di cliccarci sopra, a prescindere poi dalla qualità del contenuto. E inoltre c'è un altro grandissimo problema, che è quello del traffico fraudolento. Perché nasce il traffico fraudolento? Perché anche i content creators, come vi dicevo, vengono pagati in percentuale, chiaramente, in base ai click o alle lezioni o alle impressioni che ricevono gli annunci sulle loro piattaforme, sui loro siti. E quindi c'è tutto questo mercato del traffico fraudolento e dei click malevoli volto a generare click fasulli, fondamentalmente, per far guadagnare chi ospita le pubblicità. Questo a scapito naturalmente dell'advertiser che paga uno sproposito per il raggiungimento di alcune persone finte, perché effettivamente è traffico di bot. E questo, guardate, è pazzesco guardare quanto incide sul mercato dell'advertising. Nel 2017 16,4 miliardi di dollari era il valore stimato del traffico fraudolento. Quindi questo è il danno agli advertiser a tutti gli effetti. I video sono colpiti il 73%, scusate, i bot colpiscono il 73% in più i video rispetto che i contenuti standard. E naturalmente questo comporta che gli advertiser sono molto scettici riguardo al fare pubblicità online, proprio perché è un sistema veramente poco poco funzionante. La conclusione quindi è scarso rendimento e maggior costo per l'advertiser, l'abbiamo capito. Pessima user experience per il pubblico che vuole navigare il web si trova subissato dagli annunci e quindi gli viene voglia di installare gli adblockers. I content creators, come abbiamo detto, sono incentivati a creare contenuti a raffa click piuttosto che di qualità e chi ci guadagna chiaramente gli intermediari che sono sempre loro che fanno da banco. Quale può essere la risoluzione? Qual è la risoluzione che propone Basic Attention Token? Quindi abbiamo capito i problemi da superare. Per superarli sono talmente radicati e talmente insiti nel sistema attuale che occorre rifarlo completamente. Quindi occorre creare una nuova economia ed una nuova infrastruttura volta a valorizzare, questa è la proposta di Basic Attention Token, non più il click o l'impressione ma l'attenzione del pubblico. Naturalmente bisogna definire l'attenzione e soprattutto quantificarne il valore. Per la quantificazione del valore ecco che nasce proprio la token economy basata su blockchain che vede come suo prodotto il Basic Attention Token che come dice la parola stessa è un'unità di valore dell'attenzione dell'utente quindi è da lì che nasce il suo valore. Questa infrastruttura oltre ad essere blockchain based naturalmente è open source quindi ci sono le API a disposizione, chiunque può prenderne il codice, modificarlo e creare la sua applicazione che gira però sempre naturalmente su questa blockchain che taglia fuori completamente gli intermediari riducendo quindi tutti quanti i costi e gli oneri che ci sono nel sistema tradizionale. Non abbiamo più tutta quella fitta rete di agenzie, di providers che abbiamo visto poco fa ma abbiamo soltanto l'advertiser, l'utente finale, il creatore di contenuti che ospita la pubblicità e gli unici intermediari se li vogliamo chiamare così sono Brave Browser e l'associazione e la fondazione di Basic Attention Token che sono alla fine un ente unico. Inoltre un grossissimo fattore di svolta è che c'è un incentivo per il pubblico ad interagire con le pubblicità. Abbiamo detto che il Basic Attention Token, vi ho già spoilerato poi quello che ci sarà nella prossima slide, tuttavia il Basic Attention Token è l'unità di valore dell'attenzione dell'utente quindi in un certo qual modo la sua attenzione viene valorizzata e questo significa che l'utente stesso viene pagato, viene ricompensato con questi Basic Attention Token in base appunto alla quantità di attenzione, passatemi il termine, che dedica agli annunci e alle pubblicità che visualizza, che non vuole semplicemente dire cliccarci sopra ma potrebbe voler dire magari vederne un tot piuttosto che completare dei micro task, fare qualche piccola azione e solo che la differenza è che lo fa perché è invogliato ad interagire, quindi si crea un incentivo dal basso, chiamiamolo così, che spinge proprio l'utente a interagire con le pubblicità stesse e questo oltretutto, che l'ho detto anche questo nella slide successiva che a questo punto vi mostro, apre le porte dei nuovi formati di annunci che vengono proposti all'utente, non in base a tutti quei sistemi di profilazione che poi spesso e volentieri non sono così efficaci, ma per l'interesse espresso dall'utente stesso. Come funziona? Visto che l'utente è incentivato ad interagire, ve l'ho detto più o meno dieci volte, lui stesso dirà questo mi piace, questo non mi piace, con questo interagisco di più, con questo interagisco meno e di conseguenza la piattaforma si accorge delle sue preferenze in un certo qual modo, ma questo tutela anche la privacy dell'utente stesso, perché? Perché non abbiamo più nome, cognome, età, razza, altezza, peso e quant'altro, non abbiamo più i profili collegati con questi dati, ma soltanto un identificativo legato al nostro wallet di Basic Attention Token, che è un wallet nativo del browser Brave, quindi quando noi andiamo a scaricare il browser Brave e ci integriamo per la prima volta il nostro wallet di Basic Attention Token, quel wallet che avrà il suo address chiaramente farà da identificatore per me, quindi è il mio pseudonimo durante la navigazione, quindi Brave capirà, in base alle preferenze legate al mio pseudonimo che cosa farmi vedere, che cosa no, e io ovviamente sarò invogliato a dirgli se mi interessa oppure no, e quindi questo sistema è destinato al miglioramento e a una maggior funzionalità nel tempo. Quindi vedete in questa slide vi ho scritto cose che in realtà vi ho già detto, il Brave Browser è l'infrastruttura sulla quale si basa tutto quanto, i nuovi formati di ads che vanno a rimpiazzare i vecchi che vengono invece bloccati, studiati ad hoc per Brave a minima invasività, con una tutela della privacy, come vi dicevo per questo nuovo metodo di profilazione non più legato ai nostri dati ma legato alla nostra distribuzione dell'attenzione, alle nostre abitudini con le pubblicità proposte, e il token BAT che è l'unità di valore dell'attenzione che si integra chiaramente col wallet Brave. Infine un ultimo vantaggio che il wallet Brave, scusate che il browser Brave dà e anche l'ecosistema BAT naturalmente è la possibilità di fare micro donazioni ai content creators, quindi se a me piace molto il lavoro di qualcuno io gli faccio una piccola donazione tramite il mio wallet BAT, quindi io gli dono i BAT e tramite questi BAT gli dimostro che apprezzo appunto quello che fa, gli dimostro la mia attenzione in un certo qual modo. La differenza rispetto alle donazioni tradizionali è che non c'è più l'intermediario di mezzo che se ne mangia via la metà, come succede con Patreon o con YouTube ad esempio, ma va al 100% al content creator e inoltre è possibile anche fare appunto micro donazioni, ovvero di pochi centesimi di dollaro, il tutto senza incorrere in fees e né spese di gestione grazie all'assenza di intermediari di mezzo. Quindi questo è quanto, le conseguenze quali sono? Una migliore user experience chiaramente perché abbiamo il browser più veloce con le pubblicità meno invasive, il pubblico incentivato ad interagire con esse dedicandogli attenzione. Proposta di ads, consoni con i propri interessi e tutela della privacy, come vi dicevo poco fa, proprio perché in base al nostro pseudonimo ci vengono proposti ads che sono stati rilevati di nostro interesse in base alle nostre interazioni precedenti. Content creators incentivati a produrre contenuti di qualità anziché clickbait proprio per integrare al meglio le pubblicità che assumono un contesto completamente diverso da prima, non sono più le protagoniste diciamo delle pagine che ovvero aprire una pagina c'è tutta pubblicità con un po' di contenuto giusto per essere lì, ma è il contrario, il contenuto ritorna il protagonista. Minori costi per advertiser e miglior rendimento, questa è la conseguenza finale che rende l'online advertising su questa piattaforma assolutamente migliore. Tant'è che già più di 5 milioni di persone hanno scaricato Brave browser e dubito che tornerebbero indietro io per primo. Per concludere vi mostro un po' l'interfaccia, io sto già usando il Brave browser da un po' e mi trovo benissimo, ve lo giuro, provatelo e capirete voi stessi cosa significa. Vi faccio vedere quali sono le novità. Al di là del discorso del Brave Shield che è il blocker, led blocker e tracker blocker di cui ho parlato nel video su Brave, vi mostro il discorso delle rewards, del basic attention token. Vedete cliccando il simbolino di BAT che è di fianco al Brave Shield nella barra dell'URL si apre questo piccolo pop up che mostra il nostro portafoglio. Io ho questi 40 BAT che vengono regalati nel momento in cui si installa per la prima volta il browser. Attenzione, regalati allo scopo di donarli a qualcuno. Vedete, è una sovvenzione che per me scade l'1 di giugno quindi non sono da intascare ma sono per iniziare a far funzionare, a far girare questa nuova economia. Qua sotto vedete in base al dominio che si sta visitando ci dice se ha un autore verificato Brave oppure no. Nel caso di Google no, quindi non posso inviargli una donazione. Che peccato, l'avrei proprio fatto. Ma se ad esempio andate sul mio canale e cliccate il simbolino di BAT vedete che io sono un editore Brave verificato e quindi potete inviarmi una piccola donazione. Qua c'è il mio messaggio di ringraziamento scritto da me e qua potete scegliere l'importo e potete addirittura renderlo mensile. Chiaramente se mi fate una donazione io vi ringrazio tantissimo perché mi fa piacere. Questo discorso non toglierà mai il fatto che i miei contenuti rimarranno sempre comunque gratuiti e sia ben chiaro ma è un modo come un altro per sostenermi insomma per incentivarmi a produrre sempre contenuti di qualità come cerco sempre di fare. Quindi questo è quanto. Se volete scaricare il browser Brave vi ricordo ho lasciato il link qua giù in descrizione con il mio referral che mi dona automaticamente 5 dollari di BAT senza toglierveli a voi. Mi li dona e basta per il vostro referral e se non avete visto il video di Brave dateci un'occhiata così completate il quadro e ditemi cosa ne pensate. Trovate che possa avere un futuro un sistema come questo? Riuscirà a migliorare davvero l'online advertising oppure rimarrà sempre nelle mani dei monopoli attuali? Ditemi la vostra. Vi saluto e alla prossima!